credo di essere pronto, si lo sono e ciao ragazzi e benvenuti a tutti, sono Alessandria Alex e ben tornati al mio canale, oggi siamo con l'episodio 8 se non sbaglio siamo con l'episodio 8 della carriera e non rimangono molte squadre ragazzi oggi dobbiamo fare la Lazio e se il video dura meno di 20 minuti con la Lazio o 16 facciamo anche il Milano iniziamo, non lo finiamo iniziamo anche il Milan in questo video altrimenti facciamo solo la Lazio e poi il prossimo video facciamo Milan e Napoli perché abbiamo fatto Atalanta, Bologna, Caglia Richievo, Empoli, Fiorentina Frosinone, Genoa Inter e Juventus abbiamo fatto esattamente 10 squadre ne rimangono altre 10 tra cui Lazio, Milan, Napoli Parma, Roma, Sampdoria Sassuolo, Udinese, Torino e ne rimangono altre non sono molte ragazzi solo 10 quella con più punti è la Juventus la squadra con più punti perché la Juventus ha precisamente 91 punti una cosa che non mi aspettavo è che l'Inter siamo stati esonerati dall'Inter non ci credo con una bellissima squadra eravamo secondi a poco dalla Juve e siamo stati esonerati poco dalla Juve prima peccato perché non era finito il campionato se venivamo esonerati alla fine del campionato ce la valevano i punti tipo il Chievo Verona abbiamo chiuso il campionato 19esimi 29 punti uno schifo e siamo stati esonerati però alla fine appena è finita la 38esima partita del campionato l'ultima quindi finito il campionato possiamo iniziare il video ragazzi fatemi sapere nel prossimo video scrivetemelo nei commenti se volete che vi ripeto tutta la classifica contando anche la Lazio non ve la posso dire in ordine perché c'è in ordine tipo chi è primo secondo terzo ve lo dirò appena è finita la serie dopo l'ultima squadra l'Udinese e vedremo centrocampista difensivo serve qualificati per la UEFA Champions League l'obiettivo della Lazio meno male ragazzi credevo fosse vincere il campionato invece solo qualificati per la Champions League sono davvero felice perché sarebbe stato troppo difficile Luis Felipe ha solo i 21 anni però comunque da cambiare Luis Alberto e Luis Alberto non è una T gioca a Correa mi dico di Savic non mi dire non c'è c è un cdc lei va è un cdc parola oppure sì anche parola Marosiched Lulic perfetto ragazzi allora sono tutti nei ruoli adesso ragazzi ogni giocatore è nel proprio ruolo e siamo messi bene chi è che ha ha 18 anni Pedro Nito questi sembrano quasi gemelli ragazzi Bruno Giordano e Pedro Nito anche per l'età un anno di differenza poco Cataldi abbiamo quindi la riserva è lunga ragazzi c'è da vendere per esempio a giumisti che non abbiamo il ruolo c'è da comprare molto urgentemente ragazzi perché abbiamo la punta di riserva non abbiamo la punta di riserva allora dobbiamo comprare una punta di riserva un attaccante di riserva perché un AT non basta un esterno destro suppongo perché in sinistro l'unice ci sta di Marosic quanti anni ha 25 l'unice di meno no l'unice ancora di più 32 cavolo ragazzi siamo messi davvero male però posso far giocare Lukaku J quindi ragazzi allora ovviamente il capitano è Cine Immobile nel caso arriviamo in finale di Coppa Italia come è successo allora ragazzi dobbiamo prendere un esterno destro perché Lukaku mi va bene là il Lukaku quello fin dire ai ragazzi che basta un esterno destro e un attaccante di riserva perché Lukaku la sinistra mi va bene io vado subito a selezionare i nomi da prendere ragazzi per chi se lo fosse chiesto il nostro budget è questo davvero basso davvero comunque i primi nomi sono questi Ako Federico Bernardeschi Patrick Cudrone io direi prima di andare a prendere Ako però non so quanto è forte c'è una cosa ragazzi prima chiediamo quanto è forte quando ci diranno quanto è forte adesso vediamo quanto tempo ci vuole e che cavolo di nuovo dov'è Ako Ako lo chiamo Ako perché è più veloce 6 giorni per sapere Ako quanto è forte perché mi fai salvare non voglio salvare ora non devo salvare il 7 sapremo quando è forte Ako nel frattempo andiamo contro l'Ajax pareggio 1 non male pure l'Ajax è una buona squadretta ragazzi dovremmo cercare un centrocampista difensivo allora è vero Ako con 72 oh mamma mia ragazzi oh mamma mia direi di prendere Bernardeschi e basta perché poi non abbiamo i soldi per nessun altro comunque dobbiamo vendere un sacco di giocatori abbiamo anche Kaser resti in prestito nel caso se lo vogliamo lo possiamo ritirare Romulo ci hanno prestato e a me non serve vabbè poi abbiamo prestato tutti i giocatori ragazzi che non c'entrano niente con questa carriera Romulo lo possiamo ridare però ragazzi lo vorrei tenere possiamo ridare Petronedo il suo gemello finto io direi di facciamo una cosa la posizione voglio mettere in ordine ordiniamo la posizione ecco dimensore centrale terzini devo vendere tutti i terzini fra cui questo che ce l'hanno prestato e non mi serve ah io l'avevo prestato non l'avevo mica prestato vabbè mettiamoli di nuovo i prestiti ho sbagliato vediamo basta lo vendiamo giornisti anche appena arrivato vabbè mettiamo in lista prestiti a scena non ci serve perché non abbiamo una sinistra ah imprestito meno male ci servo questa posizione mi serve anche questa posizione questa atti pure mamma mia un giocatore che non ci serve vabbè rossi lo possiamo lasciare là ci serve palombi non direi vabbè mettiamo in ordine di totale il più forte è immobile poi anzi di prezzo guardate prezzo migliore vabbè sì uguale a prima allora possiamo tra questi che ci faranno guadagnare molti soldi vendere Radu no Radu no Lukaku vale molto Marusic possiamo vendere ragazzi un Lukaku siete appena arrivato no non è appena arrivato Lulic lo dobbiamo vendere ragazzi perché non lo voglio a 32 anni inizia a calare un giocatore che è tornato alla propria squadra Romolo no Romolo no erano altri due un giocatore che è tornato da noi ho sbagliato prima direi di guadagnare qualche soldame qualche soldo ragazzi e poi iniziare a vendere i giocatori che costano soldi due a due comunque abbiamo pareggiato quindi siamo passati contro il Manchester United ovviamente ragazzi la squadra più forte chi la deve beccare la Lazio noi praticamente l'ultima partita Romolo ho giocato vogliono comprare Luisa Alberto ma io gli chiedo una base di 39 milioni no un po' troppo 30 33 5 no 33 5 è poco 36 5 che è poco di più ragazzi però fa la differenza ci farà guadagnare davvero tanti soldi venderlo però ci saranno sicuramente alcuni che stanno dicendo ma non vendere Luisa Alberto perché proprio lui non vendere Luisa Alberto che è forte di serve per la stagione lo so ragazzi però Luisa Alberto eh vale molto 33 milioni e 1 no l'1 forse l'ho aggiunto io per sbaglio vediamo sì l'ho aggiunto io per sbaglio vanno bene anche 33 milioni però andiamo sui 35 perché ragazzi sapete che quel cavolo di di Bernardeschi la Juventus vuole minimo 50 milioni per Bernardeschi 49 milioni non li accetta mai in tutte le carriere che ho provato non quelle che registro ma sono per forza 50 milioni se oggi di meno bene prendo anche la punta di riserva Patrick Cudrone se no vediamo contro il man contro il moon confitta 2-1 contro il moon il moon di Manchester United primo torneo 7-3 hanno accettato offerta per Kaisedo non male ragazzi proprio per Kaisedo che forse posso vendere non ha niente da aggiungere a questa offerta bravo non serve a niente proviamo 12 a 5 che è una buona offerta per Kaisedo almeno adesso hanno accettato mamma mia ragazzi il king direi il king delle cessioni userei dire il king delle cessioni comunque ragazzi io avevo già programmato di dire ragazzi è arrivata l'ora di prendere Federico Bernardeschi però ancora non abbiamo venduto i due giocatori quindi non abbiamo i soldi io direi allora nel frattempo di upgradeare far salire di overall Lukaku perché se no siamo costretti questo vi in mente perché siamo costretti se no a prendere una riserva anche per lui perché non è molto forte ragazzi 77 è da cambiare assolutamente urgentemente quindi io direi di allenarlo e bene direi 4 allenamenti solo a lui poi farò di salire Milinkovic Savic però la mia testa dice di far salire Luis Felipe quindi noi facciamo Luis Felipe anche se vedo questo stregoscio che potrebbe migliorare vabbè ma Luis Felipe ragazzi non in una stagione Luis Felipe in 2-3 stagioni arriva 80 2 stagioni diciamo vedete che ha già preso D infatti va male in una stagione 80 non ci arriva minimo massimo massimo 79 avendo anche 21 anni quindi non sale molto più di uno credo giocatore venduto credo sia proprio Luis Alberto aspettiamo di vendere anche Caicedo così vediamo il budget e vediamo chi prendere perché poi se compriamo Bernardeschi ci avanzano 40 milioni io non prendo Cutrone che è tipo 78 ma io prendo non lo so una ora mi vengono in mente però uno che è tipo 82 83 lui no è Casedo quello vendito oh cavolo solo 12 milioni abbiamo reso comunque io vorrei ragazzi chiedere alla Juventus quanto vale no quanto vale quanto ci potrebbero dare per Bernardeschi altrimenti ragazzi chiediamo quant'è così vediamo anche il valore perché siamo a luglio ragazzi abbiamo ancora si è appena finito lui divan anderson divan anderson adesso prestito chissà quanto prendeva di contratto comunque ci ha tolto belle ci ha dato fastidio Luis Felipe che è ancora all'inizio di 77 male neanche ancora all'inizio di 77 è quasi 80 in tutto della difesa speriamo ci arrivi in due settimane perché tra poco non lo posso più allenare siamo arrivati comunque ad agosto aspettiamo siamo arrivati ad agosto ed è scomparso Luis Alberto qualificati per la Champions League l'obiettivo della squadra Luis Alberto non è scomparso non ci hanno più detto niente di Luis Alberto e allora noi ragazzi adesso direi di andarlo a prendere comunque ci ho visto un'altra offerta prestito questo è il budget che adesso miglioro perché Bernardeschi non prende così tanto stipendio credo 250.000 no ho sbagliato devo allenarli è arrivata pure la relazione finale su Federico Bernardeschi e vediamo nel frattempo Luis Felipe inizia a salire perché è salito da solo nella marcatura Federico Bernardeschi è 82 lo sapevo anzi credevo 84 guarda e ha uno stipendio di 30 milioni quindi già ci guadagno un bel po' abbassandolo fino agli 80 milioni poi quello rimasto lo riaggiusto per prendere uno tipo Gudrone sì ACO no andiamo a prendere Federico Bernardeschi leviamo ACO di mezzo e prendiamo andiamo a prendere Bernardeschi Federico Bernardeschi che vale un sacco raga iniziamo con una base di 30 milioni perché poi non abbiamo molti soldi anche perché loro lo usano per il turnover però 30 milioni sono così così per Bernardeschi forse ne vale un poco di più proviamo il suo valore di più non lo so facciamo 35 anche poco però facciamo 35 basta non mi interessa a quanto pare dalle notizie che sono scomparse dice la dirigenza che basta va bene anche un quinto posto ci dicono qualificazione alla Champions però se non ci riusciamo va bene anche un quinto posto però un'Europa però assicurata cioè quinto posto proprio giusto giusto ragazzi ci hanno derubato dei soldi che abbiamo perché ci hanno chiesto 43,5 giusto giusto quello che abbiamo ma io direi di dargli la bernardese anche perché non è troppo urgente questa punta di riserva quindi usiamo tutti questi soldi miliardi milioni anzi questi milioni per bernardese però ragazzi sappiamo come rifarci abbiamo sappiamo abbiamo come rifarci prendendo l'ulic guadagnando 8 milioncini che sono pochi però così abbiamo soldi per prendere anche un attaccante scarso però che giovane quindi almeno 75 ci arriva nel frattempo vediamo il giocatore chiave a bernardeschi il solito che gli dava la juve come ho scritto se l'ulic rifiuta di andare a quella squadra che non mi ricordo manco qual è l'everton all'everton io mi arrabbio e lo picchio lo svincolo proprio ok accettato bernardeschi accettato questo il budget è rimasto è molto abbiamo guadagnato un sacco con l'ulic guardate finanze mamma mia 7 milioni e mezzo abbiamo adesso buono anche se l'ho venduto per 8 milioni e mezzo quindi un milione non so che fine ha fatto andiamo comunque a mettere bernardeschi che già vi serva titolare al posto di marusic chissà cosa succederà perché questa è una bella squadra da quarto posto ci sta direi di andare a prendere la punta di riserva e una punta che abbia tra i 17 e i 19 anni e che non sia un fuoriclasse perché se no mi costa un miliardo abel ruiz però è molto scarso ragazzi è tipo un 60 cerchiamo piano piano altrimenti ragazzi lo cerco io il primo più forte che trovo ragazzi ve lo dico comunque c'è questo harp ragazzi che un ragazzi 69 ve lo dico circa musabarno è appena arrivata l'Atalanta lo so già comunque è il 67 ragazzi è però io devo prendere il giocatore chiave di questa carriera quello che rappresenta la carriera ragazzi Gioao Felix c'è un solo problema che Gioao Felix è un ATT non è un ATT no non è un solo problema no il secondo problema è che ho poco budget quindi non la posso comunque prendere eh mi sa che immobile sarà l'unica attacca no non può essere devo prenderlo per forza un altro proviamo a prendere questo foster qua non lo so ragazzi non lo so informazioni dettagliate su nessuno c'è cutrone qui proviamo a prendere cutrone ma basta mi sono scocciato di cercare prendiamo cutrone diamo i 9 milioni guardate tutti i soldi che abbiamo non ce la facciamo neanche con 9 milioni proviamo 7 perché dobbiamo arrivare a 40 milioni non ce la facciamo 40 milioni no siamo a 39 40 milioni non ce li danno 8 milioni e mezzo potevamo 8 milioni per essere più sicuri ma vabbè ci diranno il suo valore superiore alla cifra ne sono sicura riteriamo che il suo valore sia superiore alla cifra offerta ci ha riscommesso 100 euro chi posso prendere non lo so proviamo a cercare in una sempre squadra di serie A l'S va indietro ancora eccola qua 3 eccola no ma potevamo fare direttamente questo mi si è tolto e che palle ecco una T di serie A non una a caso 100 luci ragazzi posso prendere le luci sto a posto ceravolo ciano ragazzi posso prendere tutti questi defrae mi vanno bene vabbè con questi non puoi se che hanno guarda gioco di gioco di gioco di gioco di gioco non lo so lo so del real no di card guarda lo guarda lo vuoi prendere ragazzi spagna veramente non posso non posso non voglio no l'hanno venduto non ci credo ragazzi l'hanno venduto che delusione e allora andiamo a vedere un cicellona però infatti ne sono due il barzo vediamo l'atletico l'atletico dei maggiori o morata o calidice ragazzi però calidice mamma mia ragazzi calidice quando prende di stipendio ci sarebbe come idea pure diego costa però ragazzi ti pareva calidice te pareva che l'ho detto a fare comunque chissà che ha fatto grisù gisman ragazzi perché veramente come sapere che ha fatto gisman ragazzi fino a fatto antoin grisman alla juventus antoin grisman e messi siamo a posto ragazzi siamo a posto e allora ragazzi forse so dove cercare no forse in inghilterra in inghilterra ci sono i giovani giovani quelli attaccanti che valgono poco e niente pietra un ricco ma io ho cercato a tt comunque scomparso il coso da tt ragazzetto c'è quello c'è wellback ragazzi è una buona scelta deve ad essere sincero comunque c'è la gazzetta bambini anche che sono davvero forti ma costano troppo ragazzi do noi il budget è un vero peccato celsi celsi vediamo il celsi il celsi e guain in presidio dalla juventus appunto però infatti dalla juve c'è qualcun altro c'è gironde che non vale molto raga però mi dispi non c'è non mi da fastidio proprio questa cosa che abbiamo un piccolo budget primo è il liverpool sono ragazzi guardati tt non ha nessuno è lì ha venduto firmino c'è starridge è la starridge questo è un botto vabbè ragazzi non mi ricordo neanche a sì so a chi prendere allora se non trovo davvero nessuno so chi prendere vabbè manchester city è quello che c'è se united dovrebbe avermi 2 mi dovrebbe averli ho parlato chiaro il tottenham neanche li ha parlato di nuovo c'è l'oriente cala però mi sono ridotto proprio all'apice che qualsiasi cosa mi va bene allora ragazzi devo prendere per forza lui eh sono non budget che cacchio però qualcuno l'avrà già capito eccolo qui credevo avesse più anni peccato perché vale di più mettiamolo in lista preferiti e appena vendiamo il prossimo giocatore visto che ha uno stipendio di 50 milioni anche un giocatore di 10 milioni che vale 10 posso vendere cire mobile vuole essere ceduto col ca col cacchio cire mobile oh la lazio che vabbè a napoli e juventus in una settimana praticamente diciamo due la decisione su cire mobile no io lo tengo fuori sei settimane il mio top player a parte ciro milico il cesavic ciro ciro non ho allenato ho saltato una settimana di allenamento per questi due giocatori fatto l'allenamento ragazzi è salito lukaku 78 quindi diciamo che posso la titolare c'è là non lo devo cambiare ragazzi io al video lo devo iniziare a chiudere qui perché inizia a passare il tempo peccato per bernardeschi tutti quei soldi davvero per il trasferimento duvamba vabbè proviamo 3 milioni perché pure 77 cali in un anno non meno di 76 75 utile per il sassuolo per l'udinese quello era l'udinese vabbè utile anche per il sassuolo abbiamo 10 milioni abbiamo 10 milioni oltre ai soldi che servono per basta però perché ho letto 85 mila di stipendio basta che chissà che contratto aveva spero uno alto 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 è 85 milioni non aveva caricato ok abbiamo 12 milioni con 12 milioni devo prendere un giocatore un attaccante forte e dai 33 anni in poi come mi sono ridotto mamma mia se no chiudo senza prendere un attaccante di riserva non posso davvero non posso 82 però 37 anni vabbè raga è un anno quello che devo fare di carriera mi mi va bene mi accontento vai un milione guarda ti regalo anche questi sei che io guarda te li regalo proprio giocatore non chiede squadra l'ultima volta che ha rinnovato il contratto sarà stato dieci anni fa quando era ancora 27 n ed era un giocatore chiave adesso che ha 37 anni che più lo vuole prendo cristiano rinnovato e non posso a voi si è svincolato lo prendo al parametro 0 david villa posso prendere che ne dite se prende in esso no no è che facciamo ragazzi devo mettere 60 milioni di 70 mila milioni ma si prende milioni 60 milioni nuova settimana che siamo pazzi io al video ragazzi vabbè 27 mo ti ti regalo i soldi ti rimetto direttamente in tasca guarda tutti quelli che ho tanto ormai il mercato è finito chimica l'arsenal se non sbaglio sta una giornata non c'era già lei con bilbao accettato ovviamente chi lo vuole giocatore così un anno mi va bene perché anche perché si ritira dopo quest'anno quindi la squadra arsenal acquista giusto chimic si infatti una giornata adrius accettato quindi ragazzi una punta di riserva ce l'abbiamo ed è anche forte 82 il problema è che minimo 78 ci arriva perché 37 anni che dove lo trovi in 37 anni di 82 francesco totti il fia 16 allora io direi di metterlo al posto di romolo o di mario mario ci sale romolo quindi ho fatto la mia scelta ragazzi ebbene siamo diciamo pronti uff abbiamo solo correatti ragazzi siamo messi proprio male però io direi di poter andare a simulare anche se ormai ragazzi ci troviamo a questo punto finiamo direttamente il mercato insieme dopo un sacco dopo un bel po' di tempo che non finiamo il mercato insieme visto che io inizio a simulare già alle 10 ore poco dopo c'è la partita contro il frosinone che noi non vedremo anzi c'è una cosa ragazzi faccio l'ultimo allenamento comunque siamo in europa e ragazzi siamo in europa league speriamo di arrivare a meno in semifinale faccio proviamo a far salire un po' i giocatori per dargli quello stimolo poi fanno da soli la stagione invece luiz felipe sale 79 abbiamo fatto salire noi bene concludiamo in bellezza ragazzi facendo salire luiz felipe 79 anche lui un buon titolare così giocatori impegnati con le nazionali ragazzi noi ci vediamo che è questa squadra ragazzi abbiamo un girone più facile del mondo francoforte che è un po' scarsetto questa che non esiste neanche l'hanno creata così a caso l'olimpica smarsichia l'unica che ci può dare un po' di problemi ragazzi noi simuliamo fino a ogni episodio mi sono scocciato di ripeterlo fino al 27 maggio 2019 è la stessa frase ragazzi ogni volta voi andate a vedere tutti non lo so finiremo la carriera con 13 episodi andate a vedere tutti i 13 episodi guardate fino a un punto di video in tutti i video dirò ragazzi simuliamo fino al 27 maggio 2019 e ci vediamo dopo cioè vabbè fino al 27 maggio 2019 sempre la stessa cosa non è che ho cose diverse da dire certo beh l'unica è una è la cosa ma io mi sono scocciato di dirlo vabbè comunque lo dovrò dire per altri minimo per altri 4 episodi perché credo fino al 14esimo episodio ci arriveremo fino al 12esimo scusate noi ragazzi ci vediamo direttamente a gennaio perché c'è la coppa italiana c'è la coppa italia quindi dovete vedere come va a dopo anche se siamo già a novembre ragazzi non volevo scocciarvi facendovi vedere la prima settimana di gennaio quindi ho simulato fino alla seconda e c'è il Chievo Verona quindi dovremmo vincere vediamo abbiamo vinto 2-1 ho visto nei risultati l'unico risultato che si può vedere è solo a gennaio abbiamo non si sa contro il Napoli non ce l'ha fatto vedere contro la Juve abbiamo vinto però non ci credo questo ne è risultato a finire il gennaio non vede la coppa italiana ha i sedicesimi di Champions o sono i quarti credo i sedicesimi comunque saranno i sedicesimi contro la CSK Mosca credo di aver vinto anche perché la CSK Mosca non è che è una squadra abbiamo vinto siamo ai quarti contro il Bexitas cosa stavo dicendo contro il Bexitas speriamo di aver vinto non credo perché non vedo i quarti comunque la Juve non si sa abbiamo vinto abbiamo vinto qua nel campionato speriamo di aver vinto anche il Coppa a sto punto ci sono le nazioni siamo ai quarti contro l'Arsenal ma che cammino ragazzi cammino easy la prima la prima big che troviamo l'Arsenal non è che è una big grandissima però è una buona squadra pareggiamo 2-2 a vista il ritorno ma se abbiamo pareggiato all'andata siamo stati eliminati perché il ritorno comunque eravamo eravamo in casa l'Arsenal era ospite speriamo bene comunque la Juve c'era pure andata in ritorno no abbiamo perso i quarti contro l'Arsenal peccato mamma mia mamma sarebbe stato bello arrivare almeno in semifinale io ho detto prima ho detto ragazzi speriamo di arrivare almeno in semifinale eliminati i quarti eliminati i quarti contro l'Arsenal sconfitta 2-0 contro l'Arsenal vediamo com'è andata 1-1 2-1 ok qua l'abbiamo vinta sicuro 2-1 qua 3-0 addirittura contro la Juve il ritorno abbiamo perso 3-0 mamma mia ragazzi che schifo l'andata non c'era tornano a 0 ai quarti sconfitta 3-0 pareggio 1-1 ecco questa è un po' più lottata 0-0 3-1 0-0 2-1 sono uguali 2-3-1 3-1 versa a 0 sconfitta 2-1 che brutto vediamo quinti quinti con 70 punti bene mi piace un cammino che la Lazio si credo avrebbe fatto nella realtà anche se adesso sta per vincere il campionato anche se non esiste più il campionato ritocco lo stipendio il giorno a Lukaku vabbè forse i miei suoi erano adesso perché non ho migliorato i contratti ma non mi interessa Luiz Felipe 80 Lukaku quasi 79 quindi Lukaku ha fatto schifo non ha fatto il salto di qualità senza di me e cado no neanche adesso lo fa è proprio schifo questa è la squadra oh mamma mia però l'ho sceso l'eva salito Cervi è sceso Radu è salito Bernardeschi uguale che schifo di acquisto Correa è salito di uno immobile normale Lukaku non è cambiato poco e niente è cambiato ha 2 punti dalla Champions a 4 dalla qualificazione Torino aspetta io ho detto a 4 dal terzo posto non l'ho letto cioè l'avevo visto ho visto lo stemma non c'ho ragionato Torino terzo allora ragazzi tra poco tra poco tipo l'ultimo 12 ci sa Torino vuoi vedere con noi il ora adesso cammino chi è qui voglio vedere la squadra del Torino ha venduto qualcuno e ha venduto qualcun altro in base a quando ho venduto e venduto gli stessi per arrivare terzi col Torino che come obiettivo a metà classifica o qualificazione in Europa alta classifica o qualificazione in Europa vediamo la classifica marcatori potevamo vederla anche da là comunque immobile nono con 13 gol non male però meh potevamo far di meglio Europa League dove c'eravamo noi chi l'ha vinta credo credo il Chelsea o l'Arsenal il Chelsea o l'Arsenal vediamo la Champions prima così per tenerci un po' sulle spine Real Madrid Manchester City vediamo le italiane oh mamma mia neanche i quarti se arrivate almeno gli ottavi c'erano Inter Juve eliminati la Juve contro LOL non ci credo guardate l'andata è finita 1-0 per LOL e il ritorno 1-1 speriamo così anche nella realtà anche se ormai non esiste più nessuna competizione nella realtà eliminate sempre dalla parte di destra tre squadre quattro quattro squadre italiane la Juve la Roma l'Inter e il Napoli che hanno beccato le big solo Barcellona e Manchester City Manchester United e il Monaco vabbè pure dall'altro lato però guardate qua con che stile è passato cioè clamoroso come è passato l'Inter come è passato al Napoli con lo stesso girone i stessi punti solo il Barcellona ha un punto in meno mamma mia con che fortuna è passata la Roma con che stile è passata la Juve voglio capire LOL LOL per un punto poi forse vince anche la Champions andiamo a vedere adesso l'Europa League però prima la Coppa Italiana noi siamo stati eliminati alle sei finali contro la Juve per 4 la vinda la Juve 4-0 contro la Roma Roma ma fallita Roma fallita ragazzi io sono Juventino non sono non tipo Lazio comunque devo immedesimarmi nel ruolo da tifoso e allenatore della Lazio e quindi devo dirlo Roma schifo anche se a me non interessa niente di tutte e due le squadre ha vinto l'Atletico mamma mia spero anche così nella realtà abbiamo già visto la Champions perché la sono andata a rivedere facciamo direttamente così swish Tottenham Chelsea quindi l'Arsenal ci ha eliminato per niente perché può essere eliminata dopo vabbè comunque ci sarebbe capitato male comunque ragazzi il Tottenham ci sarebbe capitato quindi 1-0 Tottenham 1-1 basta il Tottenham Chelsea prima fa una 0 poi continua con lo stesso risultato ed è 2-0 in totale Tottenham Chelsea la finale di Europa e io non so che dire perché non so vediamo se abbiamo un'altra competizione spero di no infatti ah sì spero di sì no ragazzi il video è durato davvero tanto io lo concludo qui noi ragazzi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao ciao ciao